Piero Antonio ci siamo riusciti nel veicolare, l'abbiamo presentata, l'abbiamo preparata, tu con la tua radio, con i tuoi programmi, con Vintage, con Rendezvous, noi con Video Sicilia, i risultati parlano chiaro, bella cornice, colpo d'occhio. La piazza di Monreale, famosa in tutto il mondo, dell'asse arabo-normano, del circuito UNESCO, con la beta su tutti i circuiti delle auto storiche in Sicilia, abbiamo questa triangolazione con Video Sicilia, Radio INVCC Panormus, che durerà al Giro di Sicilia 2017, che sarà veramente una manifestazione molto, molto importante. I già gli equipaggi iscritti sono parecchi, soprattutto quelli più lontani, voi che quest'anno siete il testimonial per quanto riguarda la TV, coglierete tutti gli attimi di questa bellissima manifestazione. Bisogna rievocare tutto perché il progresso è un regresso, perché cosa facciamo? Stiamo ritornando indietro, la Sicilia è una miniera d'oro, solo che è mal gestita. Mi fa ricordare i tempi quando ero un ragazzino, è una cosa che mi fa anche emozionare un pochettino, vendo le macchine e sto. Partecipiamo, da Alcamo siamo arrivati, ci divertiremo sicuramente e poi ringraziamo anche il Panormus per organizzare queste manifestazioni e per credere in quella che è la storicità delle auto. Aspettavi che Video Sicilia diventasse la TV partner del VCC Panormus? Io me l'aspettavo e lo speravo, perché è un'azienda seria, persone che sanno lavorare, la qualità delle immagini sono importanti e poi bisogna avere la flessibilità e la giovinezza all'interno. Credo che il titolare dell'emittente è una persona molto flessibile e con piacere parteciperà al Giro di Sicilia. Presidente, cosa hai consegnato all'equipaggio in partenza allo Stato? Diamo le tabelle di marcia, praticamente l'amministrazione oltre ad essere culturale, all'interno ha delle prove speciali. Diamo delle prove speciali dove ci sono i tempi e le distanze, dove loro devono avvicinarsi nel tempo più vicino possibile. Si verrà fuori una classifica. I comandanti, i capitani dell'imbarcazione lasciano per ultimo il porto. È andata già la prima fase, lo dello Stato è andato benissimo, accoglienza fenomenale dell'amministrazione di Montreale, di tutti i cittadini. Soddisfatti per la prima fase. Andiamo a fare una visita del museo e poi ritorniamo qua in centro a Montreale. Prima Coppa Panormita 2017, grazie al Veteran Club Panormus, grazie a Giancarlo Taresi, grazie al Presidente Nino Aucel, grazie ai membri che ne fanno parte di questo prestigioso club di autostoriche. Un grazie anche al Sindaco di Castellammare che quanto prima andremo a trovare. Annalisa Cugino. Annalisa Cugino che la stavamo dimenticando. Non è dimenticando. Bocca al lupo. Ciao. Annalisa Cugino.